Secondo pilastro, i diritti sociali. Io qui penso che noi abbiamo un problema di riuscire a equiparare i diritti tra gli immigrati e gli italiani su tutti i campi, che vuol dire sul versante del lavoro fare una legge sugli ingressi che permetta gli ingressi regolari invece che obbligare gli ingressi irregolari come la Bossifini. E' quindi una legge che preveda l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro non solo fuori dall'Italia, ma anche in Italia, perché i datori di lavoro si sono battuti vincendo per molti anni, chiedendo di abolire le assunzioni numeriche dal collocamento, risulta difficile pensare che invece adesso siano passati all'assumere gente a 2000 km di distanza, senza sapere che facciano, conoscendone solo il nome, perché bisognerebbe chiamarli per nome e cognome per poterli assumere, ma è un po' ridicolo pensare che l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro avvenga nel 2006, nel 2007, senza che la gente si conosca. Questo è ancora più ridicolo quando si tratta di lavori tipo l'assistente familiare, in cui mediamente la gente almeno prima ti vuole vedere in faccia, diciamo così, per dirla in un modo banale. Allora a me pare che il punto decisivo di quello è fare una legge che permetta l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, sia all'estero, qualora si realizzi benissimo, ma anche in Italia, cioè avere la forma del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro come una delle possibilità, perché altrimenti temo che facciano delle chiacchiere, ma non è detto che arriviamo a dei risultati. Gli altri vuol dire i diritti sociali uguali, e questo è un fatto, i diritti sociali uguali vuol dire non fare un torto agli italiani, ma vuol dire garantire ai lavoratori, in particolare italiani, e agli italiani in più in generale, di mantenere i propri diritti sociali acquisiti, perché voi mi insegnate che se si permette in una società che qualcuno abbia meno diritti di altri, prima o poi, per la legge della giungla che sovrasta, diciamo, governa il nostro modo di procedere, fa sì che tutti finiscono con diritti inferiori. Del resto avviene sul piano del lavoro, spostando, delocalizzando le produzioni da un paese all'altro, perché ci sono paesi dove costa meno che da noi, figuriamoci se questo non avviene direttamente in casa, quando non c'è nemmeno il problema di delocalizzare, perché basterebbe assumere Tizio invece che Caio per poterlo pagare di meno. Quindi c'è un problema di mantenimento dei diritti per tutti, come condizione che ci siano per tutti, anche per coloro che li hanno avuti fino adesso. Su questo piano a me pare che il terreno più... Grazie. Grazie.